Il concerto è Dante all'interno del Pantheon, siamo una delle materie della scuola, è appunto lo storico, una materia del disegno, è visualizzare in fotogrammi, che ricordano appunto la pellicola del cinema, visualizzare in fotogrammi le scene, in questo caso ho visualizzato l'area in inferno, adesso qui ci sarà un'esplosione, una guerra. Nel purgatorio invece abbiamo la migrazione di esseri umani che non trovano una loro terra dove poter vivere, quindi in costante movimento, da questo presente a questa speranza, questo viaggio nella speranza, per poi arrivare al paradiso che potrebbe essere appunto per molti la speranza, per altri un po' meno. Per esempio lo aggiustano, sono i bozzetti di preparazione, dal bozzetto di preparazione poi c'è lo studio del colore e c'è l'impaginazione. Grazie